Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringiluca Siamo oggi nell'ultimo episodio per quanto riguarda i consigli che posso darvi per i regali di Natale Oggi sotto i 20 euro Ci siamo, ci siamo, mancano pochissimi giorni a Natale quindi dovete assolutamente affrettarvi a fare gli ultimi regali Ma prima di cominciare fate un regalo anche a me iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e lasciando un bel like a questo video Detto questo partiamo! Anker Power Core Slim, un power bank da 10.000 mAh spalmato su una superficie abbastanza ampia in modo tale da associarlo al vostro smartphone Magari collegandolo con un cavetto piuttosto curto Cavetto che potrebbe essere anche USB-C dato che questo power bank ha la compatibilità per essere sia ricaricato che ricaricare con USB-C Le ulteriori porte sono una micro USB e una USB Type A quindi possiamo andarlo sia a ricaricare in qualsiasi modo che a ricaricare qualsiasi nostro dispositivo 10.000 mAh sono sufficienti per caricare almeno un paio di volte il vostro smartphone Passiamo avanti e troviamo una lampadina LED RGB Veramente molto interessante perché è completamente configurabile e controllabile tramite tutti i nostri assistenti vocali, tutti i nostri smartphone E io sono veramente interessato ad acquistarla per sostituire quella luce lì dentro e creare ancora di più atmosfera In ogni caso questa lampadina è di Xiaomi a 800 lumen e ci dà la possibilità di illuminare veramente al top tutte le nostre scene OK Wireless Charging È una base di ricarica wireless veramente molto figa sotto il punto di vista estetico E dà la possibilità di ricaricare i vostri dispositivi da 10W a scendere Quindi veramente compatibile con qualsiasi dispositivo Veramente molto bello esteticamente e quindi non avremo un patacone enorme o brutto da vedere sulla nostra scrivania Ma avremo un bel pezzettino di design Se avete molti cavetti nello zaino da portarvi in giro e non sapete bene come organizzarli BagSmart è il prodotto che fa per voi Infatti trovate il link per acquistarlo qui sotto in descrizione Una borsetta veramente molto bella esteticamente con una piccola finitura in pelle Tutta in tessuto veramente molto molto carina Molto curata sotto il punto di vista del design E che ci dà la possibilità di andare ad alloggiare all'interno una miriade di cavetti, accessori e altri prodotti Che magari all'interno del vostro zaino possono andare a creare non solo disturbo nella vista Perché ci troviamo all'interno dello zaino miriade di cavetti che si intrecciano e cose varie Ma oltretutto potrebbero andare a graffiare i vostri dispositivi all'interno dello zaino Quindi una pochette del genere può essere veramente la soluzione ideale per chi va molto in giro Con dei cavetti, con tanti cavetti, con tanti dispositivi e con tanti accessori Passiamo adesso all'ultimo prodotto e troviamo una SanDisk Dual Una chiavetta USB veramente straordinaria da 64GB a 20€ è veramente un affare Perché ci dà la possibilità di connetterla a svariati dispositivi e di non avere problemi di compatibilità Infatti quando andremo in giro non abbiamo la necessità di avere adattatori vari per collegarla Una volta al vostro Mac, una volta al vostro PC Windows con un USB di tipo A Perché questa chiavetta ha due porte, una USB Type A e una USB Type C Quindi ci dà la possibilità di essere super versatili e di non avere migli adattatori all'interno del nostro zaino Bene ragazzi, detto questo spero che questo video vi sia piaciuto Vi raccomando se così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Detto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti E io vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro buon Natale e noi ci vediamo nel prossimo video Grazie Grazie Grazie